posto però l'account che mica mi ricordo avevo l'accesso allora adesso allora dovremmo essere live ora adesso allora dovremmo essere live no è un casino aspetta un attimo no è un casino aspetta un attimo ok adesso non è più un casino perché ho la possibilità di allora dunque no non si chiama way out allora tu controlla se ci sentiamo aspetta che faccio un'occhiata veloce sia posto tu controlla se ci sentiamo ok fatto 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 già allora 2 che me tocca fa categoria scusate è intanto la trattata c'è solo io tanto quindi sera a tutti sera a tutti ragazzi buonasera ok questo è il nome del gioco perfetto avversi da e fino a qua fino a qua ci siamo questo è il nome del gioco salve a tutti buonasera siamo su diablo 2 resurrepti finalmente su twitch sono in compagnia di giacomo non prenderlo per il culo no 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 per chiarirà di dio non mi permettere mai di fare una cosa sì intanto però la lobby sì dall'alto dei nostri diecimila spettatori non si può no oggettivamente che era partita si diciamo abbiamo deciso a sorpresa di farla su su twitch perché noi abbiamo il canale però lo usiamo poco si veramente poco però sinceramente sinceramente non ho molto interesse per twitch e lo dico apertamente era per fare una cosa diversa diciamo che lo abbiamo rispolverato si l'abbiamo rispolverato non entravamo qui si non entravamo qui perché non ci interessava più farlo diciamo se si può se così si può di ma chi è ma chi è sto invece ma dove è aperto whatsapp faceva whatsapp aperto io no su che cazzo di computer ce l'ho aperto whatsapp scusate scusate un attimo vacca troia vacca interessante se tu vedessi che cosa sto facendo cosa sto creando per far sta cosa perché ragazzi mi si è rotto cioè mi si è rotto tutto il sistema con cui facevamo le live prima con cui facevamo le registrazioni quindi non potete capire quello dovuto fa mostro a farle live con computer solo in verità con computer e mezzo allora andiamo con sta robbia entra entra viene venga venga che l'aspetto c'è la verga c'è la virga che abbiamo appena conquista hai la verga grazie quelli che che dovrebbe essere sempre quello ma non non c'è fai unisci di pronto accessa la partita a ok così casualmente tutto a caso facciamo le cose a caso ma che c'è tre campi a caso sì eccoci qua io non so nemmeno se si sente bene comunque quindi no se sente se sente ho dato un rapido sguardo a ok mi si sentiva si sentiva ok ci siamo dopo tanto tempo eccoci su qui c'è ragazzi il trisci me la risci è conto di cosa avevo io la lanciata me l'ha lanciata lì proprio allora e allora sono finiti i botti che facevano a tutti i nostri botti i nostri bellissimi bocchi siete finiti cazzo grandissimi porca miseria allora per riepilogare ovviamente un pochettino ciò che è successo diciamo oddio per chi ci ha seguito su youtube insomma nella sostanza nella sostanza abbiamo recuperato il cubo oratrico abbiamo fatto c'è ricomposto la verga oratrica esatto bravo che abbiamo in mano che ne fregne vedete non facciamo quei tipi di video non facciamo è no no anche se qui al microfono con cui potremmo fargli questi tipi di video però non sono capace non sono così bello purtroppo vabbè ora andiamo avanti allora diciamo che nel registro delle missioni dobbiamo portare questa verga diciamo nella tomba visto di tarrascio se tu apri sì ma che davvero no no che dobbiamo primarcene no non lo so ma penso ci rimanga mi auguro che arma di mango scusate vabbè ma quello poi lo vedremo però servirà magari allora siccome dobbiamo portarla discusare un'altra pippa mentale ha inquadrato bene il video si è tutto a posto ci voglio fare quello controllo non ti preoccupare lo sto controlla la tutto schermo perfetto no scusate andiamo allora dicevo e siccome dobbiamo portare questa verga questa famosa verga nella tomba di tarrascia che è è anche l'ultimo diciamo obiettivo se vai nel registro delle missioni è l'ultima è l'ultima anche missione che è quella di trovare la tomba appunto di partiti sono due insieme in pratica però prima di fare queste due insieme che diciamo che le faremo diciamo che non ha colpa da sola ok e ci ne sta un'altra che è la quarta tra quel diario esatto questo di orazón orazón non so come la pronuncia no orazón è spagnolo orazón ascoltiamo il dialogo così cita qualche indizio magari sulla missione quando sono iniziati i problemi ho permesso alle ragazze degli harem di mettersi al riparo nel palazzo sembrava tutto a posto ma una notte dalle sale sottostanti abbiamo udito delle grida le mie guardie sono a corse e hanno trovato tutte le ragazze morte massacrate senza pietà da un'orda di demoni i soldati hanno provato a ricacciarli nel barco dal quale erano usciti da allora i miei uomini combattono una battaglia già persa dal varco continuano a uscire nuovi demoni così ho assoldato grizz e i suoi mercenari per proteggere il resto della mia amata città drognan crede che il santuario arcano si trovi sotto questo palazzo poiché lut golein sorge sulle rovine di un'antica fortezza dei vigerei ora hai libero accesso al mio palazzo ma fa attenzione ne sono un attimo perso qualcosa e io pure un attimino infatti me lo so un attimo dove dice che è perché ha parlato di un palazzo però non ho capito se questo che sta qui in città proviamo aspetta scusate siamo un po tardi allora vediamo intanto seguimi scusate siamo un po tardi abbiamo problemi adic a volte i quali pariani e sa che questo qua forse il palazzo ma poi ci può entrare si allora ti ricordi che non ci potevamo entrare qua esatto quindi se vede che forse ce l'ha sbloccato quindi dobbiamo andare qui allora te vedo nell'area ma l'area ha sbagliato allora andiamo comunque c'è il tappetino del mouse che è troppo corto esploriamo questo palazzo e vediamo cosa ci riserva intanto diamo un'occhiata generale vediamo un'occhiata qui che c'è sta gente tante volte a qui si va al livello successivo prima di andare bello sembra molta ambientazione prince of persia sì è vero ma qui c'è un altro livello pure queste botte queste batilate ma sono nel gioco o è qualcuno da me che dalle capocciate al muro ma credo che siano nel gioco perché le sento anch'io ok perfetto va bene va bene scendiamo giù no perché dovete sapere che qui può succedere di tutto dove stai nelle scale non vedo scale come vedi scale ci stai vicino a me fino a due secondi fa qui ma guardate che che posti andiamo è che sta sbattendo come non mai è vero che senti qualcuno che sbatte il sommato io ciao ma donna la verga come va guarda come va la verga come gli diamo le vergate che ti lasciano eh questi sono più forti ma no allora grazie che mi aiutavo perché sennò era un problema andiamo un'occhiata giù sì ma entriamo la porta è bellissima è una grande della serie quando la sincronia è al massimo a cui sono i sotterranei ma li vedremo dopo però adesso diamo ancora un'occhiata in giro oh andiamo vieni vieni aspettiamo un'occhiata ancora bene magari c'è qualcosa da raccattare vediamo ancora un'occhiata in giro oh andiamo vieni aspettiamo un'occhiata in giro oh andiamo vieni aspettando un'occhiata in giro oh andiamo avanti i trombatore invasore invadore ma no, trombatore ragazzi intendo quello che suona la tromba il trombettista lasciamo per devi stare calmo però trombettista li vedo un po' aggirati ecco chi è che sbatto sono loro il peso è eccessivo ma meno le cose prima del successivo sta verga da spigna mi dispiace quasi privarmene perché dovremmo provare ma che serve solo da sicure che mai c'è la manteniamo allora fatto sta che io costituisco clicca non riesco a cogliere mamma mia che sentente e chi ci ferma a noi spada di cristallo di bassa qualità non ci interessa comunque la differenza col terzo è che si incontrano oggetti che fanno sempre più schifo mettere il terzo invece erano ricchi di cioè i livelli le zone c'era un sacco di oggetti interessanti si si dove si va non lo si ah qua si torna sopra ok no non lo so non lo so non lo so andiamo andiamo chi è rau chi è andiamo andiamo a vedere quest'altra parte di qua qui c'è gente a dobbiamo stare molto calmi che ti prendiamo a pergare non so se mai avete capito ah dove vai questo scappa capito scappa mi scappa mambe di questo mi scappa aia no ho già fatto una strage andiamo ieri ieri apri e passa in mezzo a sta po non ti vedo più sto malmenando gente occhio che se me sbaglio d'asso interrompo la live beh perché aspetta oh e mi fate piano fatemi curarmi bravo amuleto fammete che cosa sta amuleto ah così era la mappa no non mi ricordavo come si vedesse la mappa non mi colpisco non ce la faccio ma questo si può mettere qui ah si no io comunque devo trovare un'altra armatura intendo con più cosi con più castoni perché si venga venga ok qui non c'è niente no c'è gente c'è lui 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 vediamo un po' se abbiamo visto tutto ancora no vieni con me seguimi ammattiamo sti bastabelli non ce la faccio vieni che stavo pensato anche qua scusate si il peso è eccessivo e crepate ammazza che schivata che ho fatto eh il peso è eccessivo non lo so come ha fatto vieni qua vieni qua aspetta qui abbiamo visto vieni un attimo vieni con me ovviamente poi la live la riportiamo insomma sul canale quell'altro ovviamente ovviamente qua ha capito questo castello tutto scritto adesso dai è brutto non usarlo chi se ne frega al senso ah beh aspetta ce l'abbiamo ce l'abbiamo ce l'abbiamo perché infatti non usarlo c'è regione aspetta che c'è una cosa qui il santuario dell'armatura è ovviamente se è preso lui come al solito me lo sono accattato io come al solito allora dobbiamo andare per i sotterranei quindi qui andiamo andiamo vediamo un po' che c'è qua sotterranei io tanto sbatte comunque io che si sbatacchia l'ho creata una cosa di terribile dovete morire anche male ho ste frecce maledette persona violenta eh lo so scusate ma io sono molto sotteratera come si suor dire sotteratera che fortuna ripeto che a questo gioco i tizi grossi sono i meno come dire i meno forti si sembrano quelli un po' meno cioè più sono grossi più sono deboli ma chi è che sta aggregato ah già perché non ci scordiamo che qui può unirsi gente a casaccio ah sì sì vabbè ahia basta che non crea che non crea un casino bella rega chi è ma le porca puttana io non riesco a entra no ma che aspetta ieri ieri stanno qua dovete morire malamente rispondi al tizio aspetta com'è così pensaci mi arco non mi interessa ci ha chiesto che facciamo digli che facciamo digli una missione aspetta la tappa pesca si chiama il santuario arcano il santuario arcano così capisce dove siamo c'è qualcuno c'è qualcuno c'è algo c'è algo a sta qui si torna giù no mi agi e oggi con sto punto e clicca me sta trova malissimo ma io pure sto andando parecchia a voto se ti può consolare pensavo essere abituato invece ma sai che dopo comunque un po che non lo giochi ci puoi trovare male comunque c'è quella tastiera meccanica che cacofonia pura eroso il giorno che decidete cambiarla fa il piacere all'altro io la sto usando poco perché comunque cosa più mouse ammazzano non so ben se sente così o vedete item per il barbaro è il barbaro sei tu giusto si è però che gli dico momentaneamente no momentanea momentaneamente no 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 c'è una quel paese guardate vieni qua che c'è stato qua grazie lo stesso ci ha detto qua pausa questo così almeno ce l'abbiamo poi attivo ok perfetto e perché a dirvi la verità una volta io ho fregato mannaggiasso punto e clicca ho fregato l'equipaggiamento a uno lo sai davvero si ho fregato l'equipaggiamento a uno padro cioè fregato me l'ha lasciato sul campo è uscito dalla partita e me l'ha lasciato sul campo ma io che ho fatto giustamente in modo affattato vabbè hai fatto bene che stava lasciato queste freccette sono le tali pulite tutti quanti pulite tutti le freccette sono le tali hanno dato e sto pensando ma l'obiettivo qual è il simo a trova il diario trova il diario dobbiamo trovare un diario e da qualche parte mi sei piaciuto l'obiettivo qual'è eh vabbè certo tipo quattro giorni che giriamo quattro giorni no però questi come mai stanno come si passa di qua aspetta no qua c'è il muro aspetta sto guarda la mappa che capisci eeeh che dopo vado per giro non ce la faccio e qua eo 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 ti sono passati adesso porco giuda ah ti senti villo il peso è eccessivo aspetta un attimo forzo io eo 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 dai posto peso vieni avevo questa passiamo di qua qua più che un palazzo labirinto perché bello intrigato al buco aspetta e aspettami spetta che adesso viene un passo ok seguimi ste porte allora mi controlla qui se ritorna giu ok ma quelle scale lì aspetta vieni con me scusa se sto fa fa tipo il giro giro dondo no guarda io amo passare attraverso le porte ha visto con quale agilità che mi sa che di qua vabbè non è nemmeno colpa tua per i sotterranei infatti si livello due fatti ci ho visto giusto con quale agilità passo tra le porte quali agili te esploramo tutto e non si scordano niente almeno così hanno avuto questo è eccessivo queste freccette guarda riguardi come se non sono dei bari vieni i medici anche rimori queste freccette maledette 2 aspetta un po devozioni seria e ributta quanto devozioni ma aspetta un attimo fammi mettere un po devozioni questa cosa che c'è faccio questo non mi interessa non ci faccio niente ecco ce faccio questa robetta comunque ancora non abbiamo capito come utilizzare le pozioni da lancio perché quelle sarebbero utili tipo da lanciare addosso ai nostri avversari verissimi amici ma non siamo capaci dire voi nabbi si siamo nabbi qui ci stanno gli altri sotterranei proprio ma giriamo tutto è uno il nostro giacomo una persona che non si perde nessun dettaglio ma giustamente è utile anche per livellare a madonna li odio è utile anche per morire utilissimo e adesso di meno vuoi crepare guarda guarda qua so di una precisione fa quello nella vita a lanciare che non fosse preciso sarebbe il colmo ho capito ma se c'è ognuno è bravo nel suo lavoro insomma quindi ma guarda ma ci mancherebbe per carità di dio non c'è niente già lo fanno atta 24 a fanno da vestito ma travi stare calmo tu come devi stare calmo che cosa in testa abbiamo forse preso qualche cosa che ci aiuta probabilmente qui c'è niente chi si torna c'è lui il sotterraneo ok ci siamo quasi eh porta chiusa non più adesso è aperta anche questa oh salve posso dare tante randellate perfetto questo è un arco c'è una chiave che non ci facciamo nulla per ora siamo qui qui ci sono gli altri sotterranei ma non ci interessano per ora andiamo poi a farmi controllare tutto almeno così stiamo tranquilli e suavi e abbiamo controllato tutto qui si va di qua c'è una porta in teoria voi dovete morire sempre male c'è abbiamo una delle spalle pare no dov'è stanno qua stanno qua stanno qua devono morire male le stesse perché è morto non sa che gente aspetta un attimo non c'è rimane tanto non c'è rimane tanto però è morto no abbiamo svegliato tutto il comitato c'è stato per rimanere c'è stato per rimanere c'è stato per rimanere aspetta aspetta famoli veni in pop e botta ho notato aspetta un attimo forza miseria oh no 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 ma perché prende l'arco da caccia sto ritardato non mi serve ma non ce la faccio nooo aspetta non morì eh uh come fa scherzi eh aspetta bisogna solamente organizzarsi la muori vieni qua il tastiera bravissimo ah che l'hai fatti secchi io ho fatti secchi con qualche difficoltà però ci sono riuscito dai abbiamo visto tutto più successivo aspetta un attimo ma qui c'è dell'oro aspetta volendo io gioiello aspetta un po' che cos'è eh scudo puntato dice dice difesa 16 no fa cagare fa cagare non lo poi metto lo scudo perché l'arma è a sì ma fa cagare lo scudo comunque che ne so pensavo scudo puntato fosse qualcosa di coatto invece è una schifezza allora eh dobbiamo andare di qua vieni seguimi seguimi era giusto per esplorare un po' tutto comunque oggi tanto per farmi male mi sono fatto una partita a COD sto condividendo questa cosa e ho visto che sono più pippa di sei mesi fa ah beh buono e non riesco a scendere ok adesso sei sceso andiamo di qua no sono sei mesi ragazzi che non tocco COD perché veramente mi aveva snervato più di sei mesi lo sai vabbè vabbè sì ok era un bel po' eh vabbè giusto per riporare un po' le freie ma se di corsa ci venite no hanno fatto quella modalità ribotta tipo che carina ma sei eterno era quello un po' più fuori aspetta ci ha lasciato un po' le cose sfera fumosa il peso è eccessivo arco da caccia che cos'è ah questo è solo per l'incantatrice io non ti vorrei di niente c'è uno alle spalle che ti sta insidiando però anti show comunque è bella sta verga però porca miseria a livello di precisione un pochettino schifo vabbè non gli possiamo insomma glielo possiamo concedere perché comunque mena eh sì sì per carità la concederglielo quando non mena l'aria ecco ho dicendo il pranzo di natale vieni vieni dell'anno scorso mamma mia vieni qua passiamo da questa no di qua non si va aspetta ne sono perso un attimo aspetta sto cercando di capire vieni qua 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 vieni qua seguimi dovete sapere che lui è l'uomo della mappa cioè io seguo lui perché non sono capace di orientarmi con le mappe no 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 aspetta come sono sbagliato io mi sono sbagliato io aspetta ci deludi uomo della mappa eh vabbè eh vabbè mica so perfetto giusto vieni vieni pardon poi detto da me che solleggia la mappa no non è che non so leggere che preferisco che la legga lui perché se non sto sempre con questa mappa a schermo aspetta qui c'è qualcosa qui c'è qualcosa basta no niente niente stavo tra te e te si 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 sbladeravo tra me e me intanto diamo un'occhiata un po' a tutto ah qui si ritorna sopra e ok c'è una po' c'è una po' no niente c'è una porta? c'era c'era a posto c'è un po' di gentaccia brutta l'apostante c'è una presa ain ti diamo una curiosità guarda come scappano si vede in maniera decente? sii, tranquillo ho già controllato prima sembra che si vede bene comunque e qua controlliamo pure dappertutto ci stiamo entri questa porta bravo sordi non ce la faccio qui aspetta fammi finì di esplorare qui a sto punto viene con me ma ci siamo ciao bella gente che è il comitato ci stavano aspettavo guardali 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 non ce la faccio dovete stare in portale è andato atto lui e basta possiamo andare dove dobbiamo andare vieni si si riesca a seguirti perché questo passo tu basta che segui me sta in una botte di ferro non hai reso con la croce botte di ferro è il ferro bot se non mi ho chiudo la porta in faccia no non era qua vieni è di qua ah tocca far passaggio da sta parte ah mazza manterzi cocolato è fatta difficile ah qui c'è ah c'è un coso c'è un forziere portale ah un portale è dove c'è porta così ah sei entrato si il santuario arcano qui ci si può perdere ah c'è il coso qua bello è qui qua attivalo ok allora giocherò tante strade prendiamone una a caso andiamo che figata e bozze dai aspetta ce ne è un po' troppo ma che gente è questa signore del ghoul che detta così sono male del ghoul ma che è una roba mamma mia c'è stavo bene ma nè quando a me che gliela non c'ha affattato che sono tutti i fili di questo ho livellato io oh è niente non ce la faccio non c'è nè 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 fai nè male spettri pensa c'è te perchè tante volte ce prendo le sveglie io il peso è eccessivo non ce la faccio non ce la faccio il peso è eccessivo che poi che poi se lui prendesse quello che deve prendere invece di dire che è successivo organizziamoci un attimo aspetta che me devo ricaricare di pozioni io ho finito le pozioni se me ne vuoi da una no qua posso dire ovviamente pozioni nemmeno a parlarne infatti qua di meno aspetta che che mi metto così brutti aspetta no io no qui ci destreggiamo così io devo aumentare l'energia io ho avuto qua qua e qua almeno faccio tutti allo stesso livello 40 qua qua andiamo a non andare qui c'è qualcosa niente mazza quanto è lungo sto santuario ma era finito e a mangiare vedi qua qua queste cose che l'hanno tirate ma non mi fa crepa eh se non veniamo in due il risultato lo otteniamo sì ma perché hanno rotto ma quanto è lungo sto perdo sto perdo sto perdo guarda guarda no io ci sto per rimanere c'hai una pozione aspetta sono morto sono morto vieni qua vieni qua un attimo mazza mostro ritardato c'è quello che dia da noi vieni qua 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 c'è stata attenzione con il terreno aspetta d'accordo pensa pesa apri blu perdale le trappole vieni qua c'è ma bucchetti no si ok andiamo ma guarda sono morto porco cane non ammazza prima questi volte e riacchiappo io la vabbè la zona cia signori veramente brutta aspetta aspetta se se vada riacchiappa un po di come si chiamano no ma molte apro il portale ma ci penso io sì sì però volevo prendermi le pozioni ma intanto prende vuole cosa buona e giusta dove stava il posto qua un po per porta ma me li sto inchiappettando esiste una pozione per ogni problema man sei morto vieni qua aspetta molti avrò un attimo il portale vieni e tanto aspetta ma penso che col cubo radrico che ci dobbiamo fa niente vabbè c'era servito mi sto qua aspetta che intanto mi vado a da chi è proprio qualche pozione ma io penso che col cubo radrico non ci dobbiamo far più niente nel caso apriamo un portale se lo dobbiamo utilizzare aspetta sì aspetta che mi prendo un po devozioni questa non mi serve questa non mi serve da il libro di tua nonna dove sei acqua aspetta vieni con me seguimi aspetta sbono da sistemare minchia di pozioni aspetta aspetta dice il peso eccessivo il peso è eccessivo come la sto fatto perché te sei equipaggiato ma tu sei donno se ti faccio di porna qua ti recuperavi l'equipaggiamento no ah panca traia buttate tutto quello che c'hai che tanto non ti serve eh sei equipaggiato come uno scemo ma scusa ma se ti riportavo qua scusa c'ha ragiona eh ti racchiappi il coso tuo no che c'hai le stesse cose appunto no però non c'è una mazza mo come no eccola adesso sì hai recuperato l'equipaggiamento tuo vai vai ok hostile 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 Non ce la faccio Non ce la faccio Io ora sapevo quanto è lungo sto coso Però va bene Mezz'ora è una buona Ma puoi negare Stai lì e li guarda E' un buon chilometro sto coso Ma puoi negare Ma puoi negare Ma puoi negare E' un buon chilometro sto coso Ma mica bene il mio Questa mamma me la due Che cos'è questo? Il peso è eccessivo E' uno scudo Ma altrimenti non ci servono E' una schifezza? Non ci serve perché tanto abbiamo una cosa che occupa comunque domani Ma dico ma è postibile equipaggiarsi in questo livello oppure Se c'hai una cosa a due mani come ti metti lo scudo? No sto dicendo un'altra cosa cazzo Mi sto equipaggiando e arriva la gente E' affermi Vediamo quanto manca qua Prendi le cose ma che c'ha stasera? Eh capito Ma che c'ha? Ci pare come se non acchiappare la roba Sì Dove andiamo? Di qua? Di là? Aspetta che ha preso una cosa che Ma guardate C'è D'en delle cose più inutili Guardate Sopriamo a un momento di qua Eh Ma questo se viene lungo di là Ok Ok Qui c'è stai Perfetto Perziere Sordi Ok Qui è a posto Ah quindi qua ti ricongiunge da sta parte Ok E qua Ok perfetto Bella madonnina Quanti siete? Ah oh sto schiritello Qua oh sto schiritello Guarda il delirio Guarda il delirio Calma 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 Che con la calma ci attiene tutto Perfetto Perfetto Ah qui ci ricongiunge da sta parte Ok aspetta A posto Era giusto per capire Ok di qua è ok Vieni Se mi fa passare magari Sette lei Eh Quanto ce l'hai alto il microfono? Che senso? Il volume Beh basta Ce l'ho due Il microfono con cui parli Al solito Non l'ho Non ho cambiato niente Al scelto? Ah certo Sempre al solito Ok Andiamo No è una curiosità mia Per una cosa tecnica No è sempre uguale No è sempre uguale Sempre lo stesso È come al solito Perfetto Il peso è eccessivo Ah forse ci siamo Ma che è sta roba Tristo No Ah c'è una cosa che ci Sparacchia Andavati da qua Ok Sbano maggiore Il model falco L'ho identificato Ma che stai facendo? Ma che ne so io Un attimo Perché hai aperto il portale? Non lo so Ma è stato sbagliato Me posso sbagliare? Sì Che cosa sta roba Aspetta non mi vede un po'? Vieni nell'inventario Più 6% Resistenza Al veleno 10% Oro extra Dai mostri Bene 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 Invece Fammi vedere com'è Questo 22 Eterio Non si può riparare Più 1 a tempo 38 difesa Questo Aspetta Ma me lo controlla Più 4 di vita Come si chiude sto portale? Eh Lascio Lì Lascio L'interroppo Ok Qui è finita sta parte Qui abbiamo andato L'altra parte Ammazza Già passata l'ora Vieni Vieni Eh vediamo di trovare sto libro Così almeno Eh vabbè Quanto ci siamo Ci siamo Quanto è qua Che dovevamo venire Quindi Eh Dove stai? Eh si Non te perdi Vai No Siccome il posto è molto C'è Ma non è molto Insomma Non è che ispiri fiducia Molto labirintico Sì Decisamente sì Tu chi sei? Io sei qui Ah putta Rimani lì Rimani lì No comunque stasera C'è qualche problema A sta a fare Sì Vedo che Non è molto Non è molto Ti sa come si dice Non è Rialtivo Sì È abbastanza Insomma Un po' È tutto È tutto Ok Ok Ah no Qui no Scusa 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 Non è in qua Ecco Pardon Ehm No Dov'hai? Comunque Pure io posso Togliere Sto coso Da schermo Ho pure Diversità No vabbè Qua è il delirio Ma voglio essere preciso Con st'arma Mi è inerata Le qualche Cule Ma Mori 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 Di livello Per Guarda Nei miei stivali E dei miei Coltini E qui abbiamo No Non è Che c'è qua Guanti pesanti Aspetta C'è lo sti spiritelli Devo 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 mettere le pozioni Se no Sta un po' poco Queste pozioni Del mana Del cazzo Scusate L'espressione L'espressione Ok A riempirvelo E muy I men I men I men I men I men I men sta molto ritardato ah ok, doveva andare dall'altro lato pure aspetta, vieni vieni con me cosa lo so, questo è un po' labirintico questa cosa un po' un dito nitro e mic ma chi è, sempre lo stesso di prima e quando sono morto sì, sì, però vieni, vieni con ho visto forse un punto dove si va non ce la faccio aspetta, ma questo non è che che novità quando dice non ce la faccio una novità unica ah no, che non era qua ah, capiremo questo non è che è sceso qua a noi perché non lo sai che ha visto in totale ma chi? è uno che si è unito mi sa che è lo stesso di prima non ce la faccio basta che però non ci aiuta troppo esattamente, ci aiuta troppo se no insomma, che l'aiuto manco in questa maniera penso quanto è lungo sto c'è, abbiamo fatto solo per la parte a sinistra di sto coso non ce la faccio abbiamo ascoltato i sordi ti avverto che è quasi mezzanotte sì, 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 sì tanto abbiamo quasi finito vabbè, cioè non c'è tanto abbiamo qua il portale ecco, lui ci sta a seguire questa ma quanti so? è lui che ci ha il mercenario ma non è qui non so se andare qua, non andiamo adottiamo andare qua mai giù che vuole eh guarda questo che è con lui ma meglio guarda non sta almeno a lui io non ci sto accadendo niente ma sai che sta almeno a lui? sì, sa io che meno mi fa però troppa giù ma basta, non fa sentire ah non altro non mi vuoi sentire no non credo a parte che io mi devo riparare all'arma aspetta un po' sì mi devo riparare all'arma aspetta un attimo aspetta un attimo che non mi fa niente più un attimo comunque io direi che possiamo possiamo interrompere qui guard aspetta aspetta perché perché ne sa che siamo leggermente fuori aspetta aspetta devo riparare all'arte devo riparare tutto do cacchio sta a lei tanto che tu fai sta cosa io guardo una cosa ripara tutto ok questo è riparato ho abbassato ho abbassato leggermente il volume ok di poco però qui ho riparato tutto ma che voglio vedere se tante volte c'è ancora se c'è ancora tanta strada si fermiamo se no è perché secondo me ce n'è da fare il secondo dove hai il portale santuario a cano si bravo quello era beccato un attimino tanta strada che abbiamo da qua e sto pure a morte no 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 aspetta fammi recuperare quantomeno l'equipaggiamento aspetta fammi recuperare riesci a fare un portale? eh eh c'ho questi che me melano fatto il portale? ma no aspetta 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 che sei tranquillo? più o meno? sì sì più o meno tranquillo aspetta aspetta perché sto arrivando perché c'è stavo comunque vicino eh ok eccomi eh vado a recuperare un attimo il corpo meno ieri io non posso a vedo ma questo c'ha come porco giunta questo non posso fa dove stai? aspetta 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 forse c'è chi esca di recuperarlo vai ok ok ho recuperato ok aspetta aspetta andiamo si andiamo nel portale dai si allora ragazzi facciamo così si perché questa era un po' lunghetta non pensavo fosse abbastanza lunga non pensavo si no ma è stata estenuante diciamo allora lo completeremo la prossima volta vabbè lo faremo qua su twitch alla fine e poi lo riporteremo anche sull'altro canale e e niente ragazzi ci vediamo se volete alla prossima magari ci organizziamo pure diversamente lo spammo un pochettino di più che facciamo le live su twitch va bene va bene un saluto a tutti perché magari rivedrà la live e buonanotte buonanotte a tutti ragazzi che vi è andata a tutti i nostri spettino di più che faccio la prossima la prossima è andata a tutti i nostri spettino di più che facciamo la prossima